Aggiornamento, se l'è cavata con la frattura del bacino e del femore l'uomo investito stamattina da un tram a Torino, i medici dell'ospedale CTO hanno escluso lesioni interne e lo hanno dichiarato guaribile in 60 giorni se non sorgeranno complicazioni, è stata invece ripristinata sul percorso normale la linea 16, che era stata deviata per un'ora dopo l'incidente.